E' tornata ad allenarsi la prima squadra Maranto dopo la pausa concessa in occasione del capodanno. La ripresa ufficiale dell'attività è prevista per la giornata di lunedì, ma già sabato gli Amaranto sono tornati in campo per la prima delle due sedute facoltative. Unico assente Paolo Grossi che nelle prossime ore si aggregherà al gruppo. Sul mante erboso del comunale la Arezzo ha sostenuto un allenamento incentrato sulla parte atletica. Lavoro in palestra, giri di campo ed esercizi mirati in quello che è stato il primo appuntamento dell'anno nuovo. Domenica pomeriggio spazio ad un'altra seduta sempre alle 15 all'interno del città di Arezzo. A tenere banco in queste ore è sempre il calciomercato. Per quanto riguarda i movimenti in entrata c'è interesse per il terzino destro del Torino Lorenzo Carissoni, attualmente in prestito al Trapani in Serie B. Dall'altra parte c'è da registrare gli ammicamenti di alcuni club di Serie B per Alessio Luciani, Provercelli e Virtus Entella, così come per Corradi. Per quanto riguarda Kevin Young e Alessandro Polidori arrivati in Amaranto con la formula del prestito servirà l'ok dell'Arezzo per un eventuale trasferimento a metà stagione. Resta aperta la pista che vorrebbe Fabio Foglia prossimo al Perugia, anche se il club Umbro in queste ore sta seguendo con interesse Matteo Scozzarella. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi la trattativa con Giacomo Cenetti, il mediano classe 89 in uscita dal Bassano che però per dare l'occhè all'operazione vorrebbe un conguaglio economico. Cenetti gradisce la destinazione Arezzo anche perché qui ritroverebbe Sottili, con cui ha giocato e ottenuto promozioni a Carpi e Venezia.